Salve a tutti da casa del papi vi comunico che sto sorcio ha rovinato praticamente la nostra tranquillità Totino non si ferma un attimo e poi io se provo a prendere il topo lui non me lo dà quindi vorrei sapere che malattia soffre Totino se anche i vostri perosetti fanno così cioè è come se volesse giocare ma non vuole giocare e allora io gli dico Totino che vuoi fare? Volemo giocare o non volemo giocare? e se ne va guarda e se ne va fa sempre così vieni qua Totino dai mi ha messo sorcio dai sta sempre con sto sorcio in bocca e tutto questo succede con Totino e poi io lo devo fermare così vedi sembra mamma mia sembra una brutta scena un sorcio spragnato e ritiri vai a riparti a riparti e tutto questo lo facciamo semplicemente dalle Totino ha perso il sorcio non trova il sorcio Totino lo facciamo precisamente dalle 16 di oggi pomeriggio allora ritrovate il sorcio Totino a casa del papì Totino a casa del papì Totino a casa del papì